L'export è in ripresa, ma quanto perso a causa Covid non è stato ancora recuperato. Nei primi nove mesi del 2021 si intensificano gli scambi commerciali con l'estero dei cinque distretti abruzzesi, con esportazioni in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un valore di 396 milioni di euro. Resta però un gap negativo rispetto al pre-pandemia. Il meno 5,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019. Questo quanto emerge dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, circa l'evoluzione dell'export distrettuale regionale. I distretti dell'agroalimentare trainano la ripresa. I vini del Montepulciano d'Abruzzo raggiungono nel periodo gennaio-settembre 2021 quota 141 milioni di euro di export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Gli ottimi risultati della prima parte dell'anno non vengono condizionati dalla parziale battuta dal resto del trimestre, meno 6% tendenziale. Risultato che comunque si posiziona al di sopra dei livelli pre-crisi, un più 4% rispetto al terzo trimestre del 2019. Anche il distretto della Pasta di Fara, con 117 milioni di euro, si colloca ben oltre i livelli pre-pandemia. erano 108 nei primi nove mesi del 2019. Comunque leggermente al di sotto del massimo storico del 2020, quando le esportazioni toccarono quota a 123 milioni, favorite dall'effetto lockdown quando si correva al supermercato per fare scorta. Segno negativo per il mobilio abruzzese, sia nel confronto con il 2020 che con lo stesso periodo del 2019. La variazione tendenziale rispetto ai primi nove mesi del 2020 è del meno 3,1%. Il gap rispetto ai livelli di export registrati nei primi nove mesi del 2019 è di 10 milioni di euro. Il rallentamento del terzo trimestre del 2021, meno 11%, va in controtendenza rispetto all'andamento degli altri distretti del mobile. Parziale recupero per il distretto dell'abbigliamento sud-abruzzese, che cresce di oltre il 6% rispetto ai primi nove mesi del 2020, ma si posiziona ancora al di sotto del 43% nei confronti dello stesso periodo del 2019. Per il distretto dell'abbigliamento nord-abruzzese, leggero regresso nei primi nove mesi del 2020.